Ciao a tutti, oggi vediamo come lavorare con le normali in Blender. Nello scorso video abbiamo visto come creare dei solidi di rotazione, in particolare come creare anche oggetti che abbiano un'apertura e che quindi possa vedersi all'interno, come in questo caso. Da qui in avanti però è necessario introdurre il concetto di normali. Che cosa significa? Le normali sono delle linee che per così dire escono fuori dai nostri poligoni, dalle nostre facce e che indicano al programma 3D qual è la faccia interna e qual è la faccia esterna al nostro oggetto. Infatti, come abbiamo già detto, il nostro oggetto 3D non ha una sua solidità, è una mesh, quindi una griglia, come abbiamo visto in edit mode, che ci permette di avere questa struttura e creare quindi qualcosa che ci sembra solido. In realtà all'interno non c'è nessun materiale, come possiamo vedere, quindi il software ha bisogno di capire da che parte noi stiamo guardando l'oggetto. Normalmente un oggetto come per esempio un cubo, si parte dal presupposto che un oggetto come un cubo, una sfera, eccetera, debba essere visto dal di fuori, perché noi lo modelliamo e lo usiamo per costruire i nostri oggetti. E quindi il software dovrà calcolare la luce virtuale che rimbalza su questo oggetto, che permette di farcelo vedere, calcolandola appunto dal di fuori, quindi dal punto in cui non lo stiamo guardando. Questo significa che all'interno non c'è nulla da vedere. Tuttavia, se noi entriamo dentro con la telecamera l'oggetto, riusciamo comunque a vedere le facce interne. La cosa importante da capire è che questo che noi stiamo vedendo è un'indicazione di pura visualizzazione che ci viene data dal software per farci capire dove siamo all'interno della scena 3D. In realtà all'interno non c'è nessuna faccia che viene quindi calcolata e renderizzata e che risponde quindi anche alla fisica della luce. E quindi detto in termini tecnici, questo significa che in questo cubo le normali puntano verso l'esterno e verso l'interno non c'è nessuna normale. Come possiamo però capirci meglio? Possiamo disattivare l'opzione che ci permette di vedere anche le facce che in teoria non si dovrebbero vedere. Quest'opzione si chiama Backface Curling e lo vediamo in questo menu. In fondo a Shading possiamo attivare Backface Curling. Vedete che è successo qualcosa? Adesso andiamo a vedere. Nel nostro cubo non è successo niente, come anche negli altri oggetti, perché erano appunto modelli che abbiamo creato partendo sempre da oggetti primitivi. Adesso se però entriamo dentro al nostro cubo vedete che non c'è più niente. Vediamo una trasparenza perché il software ci sta facendo vedere quello che effettivamente è il nostro oggetto 3D. Cioè da dentro noi non possiamo vedere le facce interne perché semplicemente non esistono. Le facce sono bidimensionali e sono dirette verso l'esterno. Possiamo anche fare in modo che il software ci faccia vedere queste cose. Possiamo fare in modo anche che il software ci faccia vedere le normali, così da capire meglio. Entriamo in Edit Mode, andiamo qui nel menu Overlay e in basso vedete che c'è Normals. Noi possiamo attivarle, ci sono tre visualizzazioni. Ci basta la terza, il display Normals. E vedete che queste linee colorate sono esattamente l'indicazione del software per dirci. Guarda che questa faccia punta verso di qua e quindi se io vado dentro non può puntare contemporaneamente in una direzione o nell'altra. È solo in una direzione. Se io entro dentro infatti non vedo niente. È possibile cambiare la visualizzazione di queste normali? Assolutamente sì. Per esempio, se io vado a cancellare questa faccia, schiaccio Cange Delete Face, io vedo la struttura della mesh, ma vedete che io vedo attraverso. Non appena io supero questa linea, mi diventa trasparente. Se esco da Edit Mode è molto chiaro. Vedo la faccia esterna, vedo la faccia esterna, ma non vedo la faccia interna. Se rientro in Edit Mode e seleziono le facce, io posso andare in Mesh, andare in Normal e digli Flip Normals. Flip cosa vuol dire? Vuol dire che le inverte. Inverte la direzione. Io posso dire, guarda, inverti la direzione delle normali. Io voglio vedere solo l'interno, quindi tutte le normali puntano verso l'interno. Vedete che io in questo momento, dalla mia prospettiva, vedo solo le facce interne e non sto vedendo quelle esterne, a parte quella che ho chiaramente cancellato. e se mi giro continuerò a vedere solo quelle interne, da tutte le prospettive. Una tecnica del genere, per esempio, è usata quando ci serve un fondale, per esempio nei videogiochi. Si chiama Skybox, ovvero una sfera dentro cui c'è tutto il nostro scenario del videogioco e che simula il cielo e il fondale, per così dire. Quindi noi abbiamo una sfera che non vediamo mai da fuori, ma la vediamo solo e sempre da dentro, perché nel videogioco siamo all'interno di questo mondo, all'interno di questa sfera. E quindi le normali devono essere girate verso l'interno. Ci sono poi dei casi, come quelli che abbiamo visto, in cui questa situazione non è volontaria. Se adesso cancelliamo il cubo, vedete che questi due oggetti che abbiamo creato precedentemente con le curve e la rotazione hanno qualcosa che non va. Nel momento in cui abbiamo attivato la visione realistica delle normali, vediamo questi oggetti strani. Perché? Perché in realtà sono state calcolate male le normali nel momento in cui sono stati creati gli oggetti. Questo può assolutamente succedere ed è quindi importante avere questa opzione sempre abilitata perché altrimenti rischiamo di non accorgerci di questo errore. Vedete che così ci sembra tutto normale. Quindi partiamo, per esempio, dalla bottiglia. Attiviamo Backface Curling e, visto che questa è una mesh, entriamo in Edit Mode. Vedete che ci viene indicata la direzione delle normali che possono sembrare dirette verso l'esterno, ma in realtà non è così. Se noi andiamo in Overlay e diminuiamo la dimensione, vedete che in realtà sono semplicemente le normali interne che erano talmente lunghe che poi sbucavano dall'altra parte. Quindi questo ci conferma che noi stiamo guardando solo l'interno della bottiglia. Allora le andiamo a selezionare tutte. Mesh, Normals. Qui possiamo o fare Flip Normals perché sappiamo che tutta la mesh è stata calcolata sbagliata quindi sono tutte in modo regolare e dirette verso l'interno oppure ci sono altri casi in cui stiamo modellando oggetti molto complessi e solo alcune facce sono rivolte verso l'interno, altre verso l'esterno quindi non è regolare la questione. In questi casi possiamo dirgli al software di provare a ricalcolare lui le normali verso l'interno o verso l'esterno a seconda di quello che ci serve e quindi farà lui un ricalcolo di dove devono puntare le facce. Proviamo anche quest'opzione, Recalculate Outside quindi ricalcoliamo il fuori che è quello che ci interessa e vedete che adesso l'oggetto si vede correttamente e soprattutto le normali puntano nella direzione corretta. Altro caso, quello del vaso. Il vaso è un caso ancora diverso ed è molto importante perché ha un errore di normali ma poi ha anche un'altra caratteristica cioè ha un buco all'interno. Allora, prima di tutto noi stiamo lavorando con questo che sentiamo in Edit Mode e ci accorgiamo che non è una mesh ma è ancora una curva. Facciamo una duplicazione di questo oggetto perché ci servirà per fare un esempio. Prima di tutto noi dobbiamo convertirlo in una mesh quindi tasto destro Convert Mesh ora possiamo entrare in Edit Mode e ora ci fa vedere effettivamente le normali che puntano proprio tutte verso l'interno e possiamo andare a selezionare tutto con A quindi con A selezioniamo tutte le facce presenti Mesh, Normals decidiamo, noi in questo caso è regolare quindi possiamo fare Flip Normals ed ecco che ce le ha invertite. Usciamo dalla modalità di visualizzazione ma c'è ancora un problema perché è vero che queste si vedono correttamente ma visto che c'è un buco abbiamo detto proprio poco fa che le mesh non hanno uno spessore di per sé e quindi come facciamo a far vedere questo buco? Perché se non vado non interessa far vedere anche l'interno. Allora qui abbiamo due opzioni la prima è a livello di progettazione quando noi andiamo a creare un oggetto con delle curve vedete qua che c'è la curva che abbiamo creato questa la spostiamo un po' in alto perché tocca la scrivania se noi facciamo una forma di questo tipo e sappiamo già che sarà una forma aperta dobbiamo aspettarci che questo problema si verifichi perché noi non abbiamo fatto uno spessore se vogliamo vedere l'interno possiamo già a livello di curve di progettazione creare anche uno spessore interno e quindi questo problema non si verificherà più quindi per esempio se noi andiamo su una vista laterale nascondiamo un attimo il vaso non possiamo modificare la curva quindi facciamo un'estrusione qui e fondamentalmente andiamo a creargli uno spessore interno quindi torniamo alla nostra visualizzazione andiamo a selezionare col tasto destro convertiamo in mesh quindi a questo momento non sarà più possibile modificare la curva e a questo punto entriamo in edit mode selezioniamo tutto col tasto A ci cerchiamo mesh e anche qui facciamo flip normals usciamo fuori ed ecco che il nostro vaso ha sia la parte eterna che la parte esterna visualizzata correttamente perché abbiamo creato uno spessore che altrimenti la mesh di per sé non avrebbe il secondo caso che può essere forse anche più veloce in tante situazioni andiamo a riattivare il vaso originale lo selezioniamo possiamo una volta che è già diventata una mesh creare comunque uno spessore tramite un modificatore questo modificatore si chiama solidify il solidify cosa fa? crea lo spessore alla mesh quindi vedete che ha creato uno strato interno partendo dalla nostra curva che noi possiamo andare a cambiare di spessore e lo possiamo fare sia verso l'interno che verso l'esterno a seconda di quello che abbiamo bisogno e poi modificare ulteriori parametri vedete che anche qua c'è flip normals perché è previsto che ci possano essere situazioni del genere possiamo decidere di riempire o no la parte di spessore che lui va a creare insomma ci dà un controllo molto pratico e veloce e vedete che abbiamo uno spessore completo quindi non ci saranno più problemi di normali quindi creando uno spessore o lato progettazione con le curve già creando l'oggetto o col solidify ci permette di avere delle normali sia interne sia esterne infatti se noi andiamo a visualizzare vedete che ci sono le normali anche all'interno quindi queste opzioni sono fondamentali non solo perché capita spesso poi di incorrere in questi problemi di visualizzazione e di rendering ma anche e soprattutto perché lo stesso problema può verificarsi nel momento in cui noi importiamo un oggetto quindi se a volte importiamo degli oggetti diversi fatti magari con altre applicazioni in formati diversi può essere che il nostro software lo importi correttamente ma semplicemente con questa visualizzazione strana che vuol dire che le normali sono state per differenze fra un software e l'altro o per differenze di esportazione calcolate e al contrario quindi ci basterà semplicemente fare un flip delle normali per avere l'oggetto corretto e alla stessa identica maniera può succedere che noi dobbiamo esportare un oggetto 3d per esempio per un game engine come Unreal o Unity e accorgerci che dall'altra parte quando viene importato le normali sono al contrario non per errore nostro ma perché il software le calcola in maniera diversa in questo caso conviene esportarlo già con le normali invertite in esportazione ci sono anche delle opzioni senza doverlo fare dal software in modo che chi lo riceve lo vedrà già correttamente quindi questa era come gestire le normali in Blender fatemi sapere come al solito se il video è stato utile e noi ci vediamo al prossimo video e noi ci vediamo al prossimo video e noi ci vediamo al prossimo video